Ciao a tutti, ho il piacere di presentarvi Forward, una linea di calzature nata a fine novembre con un goal molto importante e non è una linea comune in quanto vogliamo che sia una linea, proprio il nome lo dice, Thinking Forward, pensata oggi per il futuro. La maggior parte di queste calzature sono fatte utilizzando dei materiali di riciclo, in tali casi materiali riciclati o che possono essere riciclati, quindi con un zero impatto sull'ambiente. La definiamo una collezione transgenerational e no gender in quanto non vogliamo dare un target e ridurla ad una categoria sia legata al genere sia legata all'età e vogliamo che anche il prezzo sia una variabile importante in quanto deve poter essere acquistata anche da un target molto giovane. Per qualsiasi informazione ci trovate sul nostro sito fwdreact. Grazie